Da oggi, almeno fino al 5 gennaio, i viaggiatori che transiteranno dall'aeroporto di Bari potranno ammirare tre grandi strumenti musicali, un pianoforte, una chitarra e un tamburo. Le opere realizzate interamente in cartapesta sono frutto del lavoro dei maestri cartapestai del Carnevale di Putignano e sono state esposte in occasione di Medimex, Fiera delle Musiche del Mediterraneo, organizzata da Puglia Sound dal 24 al 27 novembre. I giganti di carta segnaleranno ai passeggeri l'attenzione dimostrata dalla Puglia nei confronti della musica e promuoveranno Medimex, che oltre ad essere una fiera vuole essere un vero laboratorio musicale internazionale a cui parteciperanno operatori, artisti, imprese musicali, festival, associazioni di categoria e istituzioni governative e culturali provenienti non solo dalla Puglia ma dal resto del Mediterraneo e persino dalla Gran Bretagna e dalla Germania. Vogliamo mettere insieme tutte le diverse filiere, in questo caso l'artigianato artistico è la musica ma più in generale tutto ciò che è cultura del nostro territorio che si sposa peraltro in maniera splendida con l'attrattività turistica. Veleggiamo, diciamo, verso numerosi successi, li vogliamo ottimizzare per arricchire ulteriormente il territorio. In realtà è un filone economico quello che noi pratichiamo che ha portato già ottimi risultati alla Puglia. La sinergia fra Puglia Sound e Fondazione Carnevale di Putignano è finalizzata anche a far uscire dai confini classici il lavoro dei cartapestai come hanno dimostrato Deni Bianco, Angelo Loperfido e Vito Mastrangelo, autori dei tre strumenti esposti. La sfida cioè quella di trasformare e destagionalizzare il Carnevale sia dal punto di vista proprio turistico e ci siamo avventurati ora grazie alla partecipazione e alla vincita di alcuni bandi regionali per la realizzazione della nuova cittadella del Carnevale, un luogo che sia contemporaneamente fucina, costruzione e anche museo e quindi una destagionalizzazione che poi proseguirà secondo un progetto che stiamo già inseguendo. ma nello stesso tempo anche insistendo con una trasformazione di tipo culturale proprio con i maestri cartapestai perché da un'attività di tipo volontaristico destinata a pochi mesi all'anno da fare nei ritagli di tempo possano trasformarsi in una vera e propria impresa artigiana. Grazie.